è stata colpita da un malore al bar poi l'urgente corse in ospedale dove è stata sottoposta ad un cesario ed urgenza per far nascere la bambina che si è salvata ma purtroppo per Ilaria Callegari 33 anni incinta di 8 mesi non c'è stato nulla da fare san pietro viminario nel padovano è il lutto per la morte della giovane mamma che si è accasciata improvvisamente a terra perdendo i sensi arrivati sul posto i sanitari del 118 hanno iniziato le manovre di rianimazione dopo due arresti cardiocircolatori il suo cuore aveva ripreso battere ma poi si è fermato di nuovo fino alla morte la sua bimba che è stata chiamata emily è stata salvata e sta bene grazie a tutti Grazie a tutti.